Ciao a tutti ragazzi, qui è Raffaele e è entrato in un nuovo video. In questo video faremo un gioco con il mio gatto. Allora, io prendo questo e il mio gatto dovrà prenderlo, faccio un esempio. Allora, io alzo il filo, lei salta e lo prende, perché è capace di saltare e prenderlo. Quindi, iniziamo! Vai, eccoci, guardate, no? Applickina, applicko, prendi il filetto. Dai, patto, ti chiede, dove tocca il piede? Hai, 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 hai. time out mi ha fatto malissimo perché io mi ho fatto malissimo e poi è già una seconda volta che mi prende Odien Odie, va pure sul cuore le metti me può andare da qu subito che magra che mi fa sta guardate come salta guardate come salta guardate come salta questo si chiama wesley stavo cantando cavolo però vedete mi sentirebbe il nastro e dove fai prendere il nastro mi ha quasi preso ho quasi fatto male ma quasi che affiato sta gatta ma 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 chapa chapa chapa